C'è una bella città cinese, ci fa molto piacere, molto onore. Vengono direttamente dall'Assemblea Europea di Città Slow in Olanda e hanno scelto Orvieto come una delle loro tappe in Italia. Quindi questo ci fa molto piacere, abbiamo parlato di alcuni aspetti, in modo particolare se riusciamo a creare delle condizioni di collaborazione dal punto di vista economico tra le loro aziende e le nostre piccole aziende che abbiamo qua ad Orvieto e in modo particolare una collaborazione con il Centro Studi a cui sono molto interessati. Quindi speriamo di continuare in questi rapporti che sono fondamentali per la nostra città. Grazie a tutti.